Si sta concludendo in questi giorni la demolizione dell'ex canile di Via della Cinta ad Arco, intervento propedeutico alla realizzazione del tratto mancante di ciclo pedonale della Sarca, dall'ex oratorio fino al Ponte Vecchio, per il quale è stata avviata in questi giorni la gara d'appalto. Il costo complessivo del tratto ciclo pedonale è di circa un milione e mezzo di euro, compresi espropi e demolizione. Quello lungo il Sarca è il percorso ciclo pedonale più importante e frequentato dell'Alto Garda, da sempre interrotto all'altezza dell'abitato di Arco. Già negli anni scorsi l'amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi per dare continuità alla ciclo pedonale, realizzando la passerella sulla Sarca all'altezza del campo sportivo del Pomerio e il tratto ciclo pedonale di Via Pomerio. Ora è partito l'iter di realizzazione dell'ultimo tratto mancante, che andrà lungo l'argine del Sarca dall'ex oratorio fino al Ponte Vecchio, passando dietro all'ex oratorio e all'ex macello. Il tutto per una lunghezza di circa 500 metri. La gara d'appalto, avviata in questi giorni, dovrà impiegare i tempi tecnici del caso per consentire di avviare i lavori prevedibilmente entro la fine dell'anno in corso, al massimo all'inizio del 2018, così da portare all'apertura del nuovo tratto ciclo pedonale nel corso dell'anno prossimo. I lavori di demolizione dell'ex canile, iniziati lunedì 19 giugno, si concluderanno entro la settimana.